Buona giornata all'OMS che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che in Europa c'è una tregua Covid e questo può preludere alla fine della pandemia. La situazione del Covid in Europa è in una sorta di tregua la quale potrebbe seguire appunto la fine della pandemia dice l'OMS. C'è un contesto che non abbiamo vissuto finora in questa pandemia. Che ci lascia la possibilità per un lungo periodo di tranquillità e un livello molto più alto di difesa della popolazione contro ogni trasmissione. Lo dice il direttore regionale dell'OMS Europa Hans Klug in conferenza stampa. Niente più restrizioni per i vaccinati anche in zona rossa. Green Pass con durata illimitata in Italia perché ha completato il ciclo vaccinale ma anche perché ha fatto solo due dosi ed è guarito dal Covid. Quarantena a scuola da dieci a cinque giorni solo per i non vaccinati. Dirattica a distanza che scatta da cinque casi in su per nidi materne ed elementari stranieri che potranno accedere ad alberghi e ristoranti anche se hanno solo il pass base. Queste le nuove norme anti-Covid decise ieri dal governo. Il Premier Draghi ha presentato in Consiglio dei Ministri i provvedimenti sulla scuola parlando di un'Italia sempre più aperta soprattutto per i ragazzi e di un percorso che andrà avanti nelle prossime settimane con un calendario di superamento delle restrizioni vigenti. Ma sulle norme della didattica a distanza e la quarantena a scuola la Lega non vota perché dice discriminiamo i bambini non vaccinati. L'ultimo bollettino relativo a mercoledì 22 febbraio intanto registra un tasso di positività che scende al 12,3%. In Sicilia altri 68 medici sospesi. Dove continuano in questa regione ad aumentare i contagi giunge un nuovo provvedimento di sospensione. L'Ordine dei Medici di Palermo ha sospeso 68 iscritti non in regola con la vaccinazione anti-coronavirus. I dottori sospesi dal lavoro non ricevono alcuna retribuzione. Secondo l'Ordine dei Medici di Palermo altri 100 rischiano di essere sospesi dal lavoro e dalla retribuzione. Sono partite nuove lettere. Dei 68 medici sospesi ve ne sono alcuni che non hanno ricevuto la prima dose o non hanno completato il primo ciclo. Altri invece che si sono opposti alla terza dose. In Sicilia sono molte centinaia i casi di esponenti del personale sanitario sospeso. Mentre in Svezia c'è lo stop alle restrizioni dal 9 febbraio. Così si unisce anche questo paese agli altri che hanno annunciato la fine delle restrizioni sul coronavirus e la decisione di convivere con quello che repotono diventata una pandemia. Il Premier Anderson dice è tempo per la Svezia di riaprire. Le restrizioni decadranno dal 9 febbraio. La Svezia consentirà di tornare nei ristoranti senza limitazioni sul numero di persone né sul distanziamento né sugli orari di apertura. Inoltre sui mezzi pubblici non sarà più necessario mostrare certificati di nessun tipo e nemmeno indossare la mascherina e decadrà la raccomandazione di limitare i contatti. La pandemia non è finita ma è entrata in una fase totalmente nuova dice il Premier. Mentre il Green Pass l'Unione Europea approva l'estensione di un anno fino a giugno del 2023 non del 2023 ma del 2023. La Commissione Europea approva oggi la proposta di estendere di un anno il certificato Covid digitale o Green Pass cioè fino al 30 giugno 2023. Continua dicono ad essere una misura eccezionale che mira a facilitare gli spostamenti. Anche se il Covid continua a circolare in Europa non è possibile determinare ora l'impatto di un possibile aumento dei contagi nella seconda metà dell'anno. Il regolamento che istituisce il pass entrato in vigore il 1 luglio del 2021 aveva durata di un anno prorogabile. Cosa diversa è la durata di validità del certificato che è stata fissata qualche giorno fa a 270 giorni dopo il completamento del primo ciclo vaccinale e illimitata per ora dopo la terza dose. Un'altra cosa ancora sono la validità e l'uso del pass a fini interni che gli stati possono decidere in autonomia. Come ha fatto l'Italia il regolamento dell'Unione Europea mira solo a facilitare gli spostamenti all'interno dell'Unione Europea. Intanto domani prime consegne di farmaci antivirali Pfizer. I primi 11.200 trattamenti completi dell'antivirale Paxlovid nell'ambito del contratto finalizzato lo scorso 27 gennaio dalla struttura commissariale con la casa farmaceutica Pfizer di intesa con il Ministero della Salute. Lo comunica in una nota il commissario straordinario per l'emergenza il generale Figliuolo. Il contratto prevede la fornitura di complessivi 600.000 trattamenti completi nel corso del 2022 i quali verranno progressivamente distribuiti alle regioni non appena disponibili secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell'AIFA. In Germania consigliano la quarta dose alle fasce esposte. Intanto parla GIMBE di meno 24,9% di nuovi casi e le intensive calano dell'8,4%. Quindi sono tutti dati in calo in Italia. In terapia intensiva le persone ricoverate sono scese a 1.549, meno 8,4% e i ricoveri negli ospedali, nei reparti ordinari, scendono a 19.873. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti qua su Teleitalia. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove ci sono video di notizie, politica e anche di fai da te. Poi questi video che trovate su Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete sono poi disponibili in Facebook nella pagina che si chiama Teleitalia. Un dato su Facebook, per la prima volta calano gli iscritti su questo social network. Sono sempre stati in crescita, cominciano a diminuire, dicono forse per la presenza di altri social network tipo TikTok. Bene, grazie a tutti nuovamente, ci vediamo tra poco. Arrivederci e grazie.